Ma Dio, ce ne scampi e ce ne liberi! Escludo categoricamente l'origine veneta della variante Xe. I sospetti di Vincenzo De Luca sono soltanto delle corbellerie, delle pagliacciate, delle espressioni folli, claunesche, puerrili, e ve lo dimostro subito con questo ragionamento facile facile. Se io dico in Veneto, ti sei sicuro, significa sei sicuro. Quindi ti sei coronavirus, significa tu sei coronavirus. La risposta è una parola soltanto, certamente. Quindi la parola Xe si può tradurre sia come sei, sia come nuova variante Xe del coronavirus propriamente detta. Se la mia spiegazione non vi è soddisfatto, vi invito a prendervi un momento di relax e a visitare la magnifica Casa delle Farfalle a Via Labico a Roma, per capirci accanto al Tulipark. Altrimenti andate a Mona. E scherzo, naturalmente, un saluto dal vostro filosofo ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari.